Era il 26 ottobre 2018 quando si consumò la tragedia, Giancarlo Andreoni morì travolto da un camion dei rifiuti nell'area del compattatore di Camucia. Adesso, ad un anno e mezzo di distanza da quel drammatico incidente sul lavoro, il PM Angela Masiello ha chiuso le indagini rilevando gravi carenze di sicurezza nel luogo di lavoro. Cinque le persone accusate a vario titolo di omicidio colposo, tra loro Alfredo Rosini che all'epoca era direttore di Sei Toscana e i presidenti delle cooperative che operavano per conto di Sei, Gianluca Bartolini di Futura, Gabriele Meccheri di Beta 2 e Moreno Magrini di Margherita. L'avviso di chiusura indagini è stato inviato anche al collega di Giancarlo Andreoni quel giorno alla guida del camion che lo investì. Secondo la procura, i cinque avrebbero cagionato per negligenza, imprudenza ed imperizia la morte dell'operaio in cooperazione colposa tra loro e con la persona offesa. Nel corso delle indagini la perizia dell'esperto incaricato dalla procura, l'ingegnere Nicola Roveri, aveva rilevato che quell'aria non sarebbe stata sicura per le manovre di scambio che solitamente svolgono i mezzi pesanti. Quel tratto di strada, lungo 120 metri e largo 7 metri e mezzo, messo a disposizione dalla provincia, infatti secondo il PM Angela Masiello era altamente pericoloso. Quel giorno, stando alla ricostruzione della procura, Giancarlo Andreoni scese da un mezzo che aveva appena fatto accesso nell'aria e fu travolto da un altro camion che aveva ingranato la retromarcia. Al momento della tragedia pare che la vittima fosse distratta per l'uso del cellulare. Gli indagati adesso avranno 20 giorni per presentare le memorie difensive e entro l'anno l'udienza preliminare.